Io penso che noi non saremo di fronte a quelle autostrade californiane a 20 corsie che andranno ad invadere il territorio, noi oggi siamo invece di fronte ad un'autostrada a 18 corsie che andrà ad invadere il territorio e se andiamo avanti così presto avremo anche a Bologna le temperature della California. Fermiamo questa follia, partecipa alla biciclettata rumorosa domenica 16 gennaio, ci vediamo in piazza dell'unità alle 14.